Ciao ragazzi, in questo e nei prossimi tutorial affrontiamo alcuni problemi sulla retta che si trovano frequentemente negli esercizi. Iniziamo, data la rappresentazione grafica di una retta, a dedurne l'equazione. Cerchiamo poi di capire, date le coordinate di un punto e l'equazione di una retta, se il punto appartiene o no alla retta assegnata. Impariamo poi a risolvere i sistemi lineari calcolando il punto di intersezione fra due rette nel piano cartesiano. In seguito, vediamo come si trova l'equazione di una retta quando sono assegnati un punto ed il suo coefficiente angolare. Grazie a questa equazione, possiamo affrontare nuovi problemi sul parallelismo e sulla perpendicolarità e siamo in grado di ricavare anche l'equazione della retta passante per due punti assegnati. Infine, vediamo qual è la formula che permette di calcolare la distanza fra un punto ed una retta, formula molto utile quando dobbiamo calcolare l'altezza di un triangolo o di un quadrilatero. Cominciamo! Il primo problema che voglio affrontare è il seguente. Voglio determinare l'equazione di una retta nota alla sua rappresentazione grafica. Per raggiungere il mio scopo, devo ricordare che l'equazione di una retta in forma esplicita è y uguale a mx più q, oppure, ancora meglio, y uguale a a fratto bx più c, dove c è il valore dell'intercetta sull'asse y, nel nostro caso c uguale a 2. E, presi due punti sulla retta e costruito questo triangolo rettangolo, b è la lunghezza del cateto orizzontale, sempre positiva, e a è la lunghezza del cateto verticale, positiva se la retta è crescente, negativa se la retta è decrescente. Nel nostro esercizio, dunque, c è uguale a più 2, b è uguale a più 5 e a è uguale a più 3, poiché la retta è crescente. Sostituendo i tre valori trovati nell'equazione y uguale a a fratto bx più c, otteniamo y uguale a 3 quinti x più 2, che è l'equazione della retta in questione. Vediamo ora un secondo esempio. Dobbiamo determinare l'equazione di una retta decrescente. Ragionando come in precedenza, abbiamo c uguale a più 6, b uguale a più 7, che è la lunghezza del cateto orizzontale, e a uguale a meno 4, poiché la retta è decrescente. Infatti, dopo essermi spostato verso destra di 7 quadretti, sono dovuto scendere di 4 quadretti. Sostituendo poi i coefficienti trovati in questa equazione, ottengo l'equazione della retta rappresentata nel grafico qui a sinistra, che risulta essere y uguale a meno 4 settimi x più 6. Ora ti invito a prendere un foglio e a provare a determinare le equazioni di queste 4 rette. Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni. Osservando la retta dell'esercizio numero 3 abbiamo C uguale a meno 2, B uguale a più 7 e A uguale a più 4, poiché la retta è crescente. Dunque, l'equazione della retta numero 3 è Osservando la retta numero 4 abbiamo C uguale a meno 2, B uguale a più 6 e A uguale a meno 1, poiché la retta è decrescente. Dunque, l'equazione della retta assegnata è Y uguale a meno 1 sesto x meno 2. Consideriamo ora la retta numero 5. Per essa, C vale meno 4, B vale più 2 e A vale più 5, poiché ci spostiamo verso l'alto di 5 quadretti. L'equazione della retta assegnata è dunque Y uguale a 5 mezzi x meno 4. Consideriamo infine la retta numero 6. Per essa, C è uguale a più 4, B è uguale a più 2 e A è uguale a meno 3, poiché la retta è decrescente. L'equazione di tale retta è dunque Y uguale a meno 3 mezzi x più 4. Prima di concludere, voglio anche mostrarvi come ottenere l'equazione della retta in tre casi particolari. Se la retta passa per l'origine, come avviene negli esempi 7 e 8, si procede come in precedenza, ricordando che C è uguale a 0, fatto peraltro, visibile dal grafico. Per calcolare i coefficienti A e B, si procede come in precedenza. Otteniamo dunque le due rette di equazioni Y uguale a 3 mezzi x e Y uguale a meno un quarto x. Se la retta è verticale, come accade negli esempi 9 e 10, l'equazione è del tipo X uguale a K. Nel nostro caso, X uguale a 2, poiché la retta passa per il punto di ascissa 2 e X uguale a meno 4, poiché anche in questo caso la retta passa per il punto di ascissa X uguale a meno 4. Infine, se la retta è orizzontale, come accade negli esempi 11 e 12, l'equazione è del tipo Y uguale a K. Nel nostro caso, Y uguale a meno 3, poiché la retta passa per il punto di ordinata meno 3 e Y uguale a 6, poiché anche in questo caso la retta passa per il punto di ordinata Y uguale a più 6. Con questo, abbiamo praticamente esaurito tutti i casi in cui si può dedurre l'equazione di una retta a partire dalla sua rappresentazione grafica. Prima di concludere, voglio però fare un'ultima osservazione. È ovvio che la procedura descritta non funziona più se i coefficienti della retta sono irrazionali. come accade ad esempio per la retta di equazione radice di 2X meno radice di 3Y più 8 uguale a 0. Oppure, se la retta ha coordinate razionali, cioè frazioni, ma non passa mai per punti le cui coordinate sono intere, come accade ad esempio per la retta di equazione Y uguale a un mezzo X più un terzo. Pur non essendo sempre applicabile, la procedura descritta ci fornisce comunque un ottimo esercizio per comprendere al meglio il significato di coefficiente angolare e di intercetta sull'asse Y. Con questo, abbiamo concluso. Nel prossimo tutorial, tratteremo la condizione di appartenenza di un punto ad una retta. Vi aspetto. Ciao!